bravo Enzo bravo vai 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 aumenta i colpi aumenta i colpi aumenta i colpi vai chiudi la chiudi la chiudi la Enzo chiudi la cerca di proiettare cerca di proiettare attacca la gamba agganciagli la gamba destra con la tua sinistra entra esci entra esci entra esci entra esci entra esci porta colpi porta i colpi porta i colpi porta i colpi vai a parete Enzo acchiappa ste gambe acchiappa ste gambe dai Enzo dai dai cerca di proiettare attacca attaccati attaccati alle gambe porta più colpi porta più colpi combinazioni dai dai vai Enzo la schiena la schiena la schiena la schiena la schiena chiudi con quei ganci gancio lavora Enzo lavora 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 lavora